Grazie Presidente, sarò molto breve. Sì, è come dire di pulire le strade. Io trovo questa mozione carente, anche perché è molto scontata e ovvia sull'indirizzo che vuole dare. Ama già svolge puntualmente l'operazione di sanificazione, lo fa con costanza e lo fa anche di frequenza. Perciò è quello che l'amministrazione sta facendo e per migliorare la qualità della sanificazione sui cassonetti del lama si sta ragionando a soluzioni ancora più risolutive. Perciò io ringrazio il Partito Democratico di questo dispositivo, ma lo trovo veramente molto scontato e anche banale, se così possiamo aggiungere, inutile. Perciò la volontà di questa amministrazione è bocciare assolutamente questo atto. Grazie.